Ecco l'albero di Natale! Ehi, Ciuschi, vai a mettere a posto l'albero, che ci sono delle palline fuori posto. Ok, io invece vado sul tetto a mettere le luci sulla casa. Dividiamoci i compiti. Ciuschi, cosa stai facendo sopra l'albero? Stai mettendo a posto le palline? Ciuschi, guarda che ti accendo e ti accendi anche te insieme. Figurarsi, c'era da aspettarselo che faceva... Figurarsi se non si va a mettere lì a dormire. Ciuschi? Ciuschi? Ciuschi, sei Babbo Natale anche te? Cioè, bisogna che metterlo fuori. Ecco, l'ho dovuto mettere fuori, mentre niente Ciuschi? Io pensavo che Ciuschi stava sotto a giocare con le palline. No, no, dentro l'albero, eh! Che, proprio antipatico. Oh, sono sul tetto, non riuscivo a salire. Non mi ricordavo come ho fatto l'anno scorso. Ho usato la macchina, con un coso e la scala. Mi dice, porca puzza, non riesco più a salire. Vediamo la casa. Ah, ma che bello! Dovrebbero stare tutte dritte, non vedete sto alto. Eccoci, tutte le lucine, guarda, che belle! E anche sopra, eh! Qui mi è messo un po' male. Ah, che bello! Qui sto ancora tentando il motore magnetico. Ah, capuzza, non funziona! Questa è una, è la bobina del videoregistratore, perché ho notato che è super smooth a girare. Ho messo tutti i magneti intorno, però questi stranzi magneti trovano sempre l'equilibrio. E' come la testina, diciamo, la testina del videoregistratore, è praticamente super, come si dice, smooth a girare. Proprio va, quella col cinghia intorno è per non muovere i magneti, anche se li ho incollati. Qua ce ne sono altri. Il modo c'è, però non lo trovo ancora. Ma c'è un'ideona super da fare. Eccolo la visuale di notte. Adesso lo io c'ho le luci. Non so. Gli appi non hanno messo niente. Ecco le spente, comunque. Perché il pino qua fuori non è che va tanto bene. E' un pino da tenere in casa.